C'è il problema dei vani tecnici, dei vani condominiali, un po' ovunque, dove si riuniscono per fare la riunione di condominio, all'epoca si facevano in questa maniera, erano anche molto più grandi rispetto a quelli che fanno adesso, ora è proprio vano tecnico, quelli invece erano un locale condominiale più grande, lo usavano, mettevano il calcio balilla, mettevano le cose, è stato insieme, è un locale di tutti, ora questi locali condominiali, un po' dappertutto, sono occupati, addirittura ai pilastri hanno fatti muri, hanno fatti inventare stanze, una storia quasi croccantissima, la fragranza la senti, fa crunch, senti che cosa ci racconta questa signora e rabbrividisci Tino, rabbrividisci. Mi sto occupando di questa situazione, di altre situazioni che ci sono. a Bari, compreso per esempio l'occupazione dei vani tecnici e qui non avete più un vano tecnico perché l'hanno occupato tutti. Io faccio una sala condominiale ad abusivo e vado 30 anni lì. E non è mai venuto nessuno? No, sono venuti, ho fatto una domanda, ho avuto la Casa Popolare e me l'hanno tolta. Me l'hanno tolta perché prima avevo mio figlio con la moglie e il reddito era un pochino alto. E quindi te l'hanno tolta? E me l'hanno tolta. E quindi poi ti inserite? Ma no, il problema è che poi la domanda la fai oggi, poi ti chiedono oggi, mio figlio e mio amore non c'erano più, però ti chiedono il reddito di tre anni fa quando loro c'erano. E quindi ovviamente? Ovviamente me l'hanno tolta. Poi ho rifatto di nuovo la domanda, per 75 euro il mio merito e come si superava il reddito e non ho potuta fare la domanda, non me l'hanno fatta fare. E quindi hai occupato il vano tecnico? E sto ancora lì. Sono 30 anni fa. Quindi tu hai fatto la domanda, perdonami se non ho capito, tu abitavi già nel vano tecnico qui, hai avuto una casa popolare occupando il vano tecnico? Sì. Giusto, mentre nel vano tecnico hai avuto una casa popolare? Sì. Quella sala condominiale praticamente la madre la paga, la signora la paga, tutti questi E tu che fai? Pagli poi loro? No, che ho la luce o l'acqua o il vino. Ma paghi qualcosa? No, 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 loro lo pagano in mezzo alla cosa delle scale. Io partecipo a tutte le scale. Ah, quindi partecipi a tutte le scale. Ma non ti arriva la bolletta tua? No. Eh, non ti arriva? Però mi arriva la luce vicino a me, loro hanno l'amministratore e prima mi arrivavano i colettini vicino a mio merito. Adesso l'istituto non vuole più che noi paghiamo. Però io lo fanno lo stesso. Quindi l'istituto lo sa? L'istituto lo sa. Certo, perché io lo stesso lo faccio all'amministratore con nome e cognome di mio merito. Però non ti arriva più quello nel premarcato, lo compiliamo noi, però la stessa cosa. Lo sa. Lo sa. Non è che non lo sa. Ho avuto anche, perché sono veduti vigili. Eh, perché fanno? Abbiamo avuto 5 anni di buona condotta, anche mio figlio e mia nuora. Abbiamo fatto una causa. Eh, però poi siete tornati là. No, noi non siamo mai andati via di là. No. Cioè, nonostante la denuncia, il processo e tutto il resto. Niente. E niente per la boccia. Certo. No, ma io guardo, non condanno, perché ovviamente uno cosa fa? Deve trovare una soluzione. Sì. Tra l'altro in un momento in cui le case ci sono e non vengono assegnate. Certo. Eh, lo so. Quanti ce ne sono così? Ma proprio tantissime. Sì, lo so. Anche sulla preda. Tantissime. Anche sulla preda sono tantissime. Ma stanno ovunque al Madonella, stanno a Gattano. Ma di quei perché non li dà? Eh... Però... Cioè, non la vogliono dare. Allora, mia cugnata ha un problema. Eh, lo so. Me l'ho appuntata. Non c'è. Quindi, dateremo anche c'è un problema. È un peccato che sta chiusa con tanta gente che ne ha bisogno. Beh, beh. Perché dico io? Sembra ancora strano che non l'abbiamo assegnata questa. Eh, ci sono alcune che sono vuote da anni. Ah, vuote. Perché questi amici, i mobili ci sono. C'è tutto. E mi amano. Tu non ci credo a me. Tutti da fardini. La mia c***a. Ma tu pensi che è facile? Con i mobili, i rompi. Perché la denuncia. Io un'altra denuncia? Ah, prendo. Io poi mi sono qui per togliere le denunce da vicino a mio figlio, vicino a mia nuova, vicino a mio marito. Vabbè. Ma stai chiesto che pesate la mia? Beh, cosa? C'è un problema. Non lì. Ma dai, assente. Ci vuole dare assente. Il problema è che tutti gli istituti che c'è sui casi stanno persone veramente che hanno bisogno. Eh, mette allora un po' sì. Eh? Vabbè. Vabbè. Tu sapete che stanno persone che ne hanno bisogno? Mi voglio, no. Mi voglio. Come no? Che siamo trent'anni giù e ne abbiamo bisogno. Eh, non so. Ci sono l'anno. E' che qua non si lavora, non si lavora. Come ti fai a pagare un affitto nella casa? Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao.